Pace, pace del Signore a tutti quanti voi, Dio vi benedica, gloria al Signore, oggi è 22 luglio, spero che state tutti quanti bene. Vi invito a leggere nel libro di Osea, al capitolo 5, al verso 11, dove è scritto che Efraim è oppresso, schiacciato nel suo diritto, perché ha seguito le prescrizioni che più gli piacevano. C'è una realtà con la quale meglio tutti quanti noi ci scontriamo e c'è una conseguenza di questa realtà. La realtà con la quale tutti quanti ci scontriamo è che ci piace seguire le prescrizioni che, scusate il bisticcio di parole, ci piacciono. Per natura siamo sempre alla ricerca di messaggi che possano assecondare i nostri desideri, i nostri pensieri, il nostro modo di vedere le cose. E questo non solo da un punto di vista sociale, ma anche da un punto di vista spirituale. Tendiamo infatti a fare amicizia con quelle persone che la pensano come noi. E questo è quasi naturale. Ma nel campo spirituale questo è qualcosa sul quale invece dovremmo riflettere bene, perché certi vincoli, certi legami non possono essere stabiliti, se veramente ci teniamo alla nostra salute spirituale, sulla base di ciò che ci accomuna, ma devono essere stabiliti sulla base dei principi della parola di Dio. È quella che ci deve accomunare, non i nostri istintivi modi di essere. E questo in quanto dobbiamo raggiungere quella che è la perfetta statura di Cristo. E quindi in questo cammino non è importante quello che penso io, quello che pensano gli altri, o riuscire a trovare un gruppo di persone che hanno le mie stesse vedute. Quello che è importante è ciò che il Signore insegna. E quindi noi dobbiamo seguire la parola del Signore, che delle volte è piacevole, altre volte una spada a due taglie, che ci ferisce, che raggiunge la profondità dell'anima nostra, ma poco importa, perché il Signore che fa la ferita è colui che poi la fascia. E il Signore che fa la ferita lo fa affinché possa essere asportato ogni retaggio della nostra vecchia natura. Ephraim amava andare dietro le prescrizioni che gli piacevano. Tante volte sento dire dalle persone che della loro religione seguono le cose che gli piacciono, le cose che condividono, le cose che vanno bene, le altre cose le mettono da parte. E noi cristiani non possiamo ragionare così. Ci sono delle cose del cristianesimo che non ci piacciono, non peraltro per il fatto che vanno contro i nostri istinti. Quando dice di perdonare i nostri nemici, quando dice di pregare per loro, quando dice addirittura al nostro nemico di fargli del bene, quando dice di essere pronti a dividere la nostra tunica con chi si trova nel bisogno, chi di noi per istinto, per natura sarebbe pronto a farlo? Sono cose che non ci piacciono, eppure la parola di Dio ci chiede di farle. E grazie al Signore ci dà anche lo strumento per poter realizzare questo. Vale a dire riporre la nostra fede in Cristo Gesù, chiedendo a Lui la forza per vincere la nostra vecchia natura, il nostro vecchio modo di pensare. Allora, tu che mi stai ascoltando e che desideri fare la volontà del Signore, non andare dietro a quelli che dicono le cose che ti piacciono, non seguire della fede cristiana le cose che ti piacciono tralasciando le altre. Unisciti a quanti amano tutta la parola del Signore e si impegnano a vivere una vita santa. Accetta tutta la parola di Dio perché solo in questo modo potrai riuscire a progredire e a prosperare. Il popolo di Israele arrivò ad essere deportato dalla terra che Dio aveva promesso ai suoi padri proprio perché andava dietro a quei profeti, falsi profeti tra l'altro, che dicevano le cose che gli piacevano. Israele vivevano il peccato, c'erano quei pochi profeti veri, mandati da Dio, che predicavano un messaggio di ravvedimento, basti pensare a Geremia. Ma quanti guai passò Geremia per questo messaggio che portava? Addirittura venne messo in una cisterna, rischiò la vita in più di un'occasione, mentre quegli altri che predicavano un messaggio che non veneva da Dio, ma che piaceva al popolo erano sannati, erano creduti, perché appunto gratificavano le orecchie e il cuore di quei peccatori dal cuore indurito. Signore ci aiuti, ci aiuti affinché non assomigliamo all'Israele dei tempi di Geremia, ma possiamo essere invece un popolo, delle persone che cercano la volontà del Signore, cercano di scoprirla attraverso lo studio, attraverso l'ascolto della predicazione, attraverso la meditazione personale, e dopo averla scoperta si impegnano a praticarla, costi quel che costi. D'altronde dice la scrittura che noi dobbiamo arrivare a crocifiggere la nostra vecchia natura, a rinunziare a noi stessi, a morire a noi stessi per poter vivere una nuova vita in Cristo. Altrimenti quale sarà la conseguenza? Quella che abbiamo letto al verso 11, cioè che veniamo oppressi, schiacciati, perché innanzitutto non sentiamo più la benedizione di Dio nella nostra vita, quella vera, quella reale, non sentiamo più la presenza di Dio che consola, rallegra, che ci rende ferventi, che ci rende attivi nell'opera del Signore. Cominciamo a sentire un certo peso, un certo affanno quando si tratta di fare le cose di Dio, vediamo calare nella nostra vita la pigrizia per le cose spirituali, cominciamo a saltare le riunioni in chiesa, a saltare la lettura della parola di Dio, la preghiera personale, la preghiera comunitaria, cominciamo a sonnecchiare un po', a incrociare un po' le braccia e poi arriva una grande rovina. E come Efraim veniamo oppressi, schiacciati. No, non vogliamo fare questa fine, perché il nostro esiderio è quello di poter sentire sempre una presenza vibrante di Dio dentro i nostri cuori. Non vogliamo abbandonare o dimenticare il nostro primo amore, ma anzi vogliamo crescere nell'amore, giorno dopo giorno, e non essere come la chiesa di Efeso, ma essere una chiesa dei credenti, quindi, che vivono un cristianesimo reale, vibrante, un cristianesimo che è come un fuoco consumante che arde dentro i loro cuori. Allora, coraggio, fratelli. Chiediamo aiuto al Signore di poter fare tutto ciò che la parola di Dio ci chiede. Noi ne avremo dei grandi benefici e l'opera di Dio continuerà a prosperare in noi, nelle nostre famiglie e nelle comunità che frequentiamo. Dio ci benedica ancora oggi. Pace del Signore.